E adesso andiamo ad Andrea dove nella seconda serata della settimana biblica diocesana affidata al biblista Don Leonardo Lepore è stata interrogata la sacra scrittura alla luce del brano evangelico della pesca miracolosa. Un approfondimento biblico vocazionale, ascoltiamo. Gettare le reti per la pesca è stato l'invito di Gesù ai primi discepoli e anche la comunità dei fedeli vuole accogliere questo invito in un periodo di particolare smarrimento per i cristiani. Sì, la parola di Gesù a Pietro di prendere il largo e gettare le reti segna direi un punto di ripartenza. Dopo l'esperienza amara della delusione, la notte passata in una fatica intensa senza ottenere nulla per cui direi che l'espressione di Gesù marca, sottolinea, proprio questo nuovo inizio. Una ripartenza di cui credo oggi si senta soprattutto nella gente particolarmente il bisogno. Si parla di rete, qual è la nostra rete? Quale rete dobbiamo gettare? La rete ha un forte simbolismo e lo si può declinare sotto tanti punti di vista. C'è una rete che coinvolge l'informazione, il mondo mediatico, c'è una rete che tocca le relazioni tra le persone, c'è una rete che può alludere e far riferimento alla progettualità del vivere, al programma, al tentativo di ricostruzione, di ripartenza. Ecco, cerchiamo di vedere come questo può essere un simbolo forte per oggi, è un simbolo che richiami alla tessitura di nuovi percorsi, di nuovi progetti, di nuove relazioni, di nuove strade, tutte raccolte nell'immagine forte della rete. È chiaro che quella pagina del Vangelo, mi riferisco a Luca 5, ha questo tratto, è marcatamente vocazionale, ma direi anche missionario. Si tratta di riprendere la strada dell'evangelizzazione, della missione, quindi non è solo la vocazione a seguire Gesù, ma è anche la chiamata ad interpretare il messaggio per offrirlo al mondo di oggi.